è il primo bravo questi sono il quinto quarto bravo, vai questo è il quinto avanti questo è il primo bravissimo, vai poi quarto è il quarto sei sicura? no, è il primo è il quinto va bene, vai bravissimo primo bene primo io quarto vai dirà quinto vai prima quarto l è diverso o uguale a prima? è uguale l è il? prima dove sei adesso? è il quinto è il quinto, ok, senti adesso l bravissima veloce, dai è il quarto è il? primo quinto vai quinto brava, vai spostati di poco non fa due chilometri tre quinto vai quinto l ti uno brava le faccio ancora due attenta eh è il quinto è il quinto brava davanti è il primo benissimo ok ok